Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Siano dato Gesù Cristo, benvenuti, fratelli e sorelle, in questo ventottesimo giorno, nelle nostre meditazioni, attraverso questo meraviglioso libro La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, andiamo a leggere questa ventottesima meditazione che si intitola Il Limbo, l'aspettazione, la vittoria sulla morte, la resurrezione. Come sempre richiamiamo noi lo Spirito Santo a leggere la preghiera del mese, poi recitiamo l'Ave Maria e poi ci introduciamo insieme allo Spirito Santo e al nostro Angelo Custode che è sempre vicino a noi. Quindi è bene sempre richiamare l'Angelo Custode ad aiutarci nella lettura e nella comprensione di questi meravigliosi scritti che rappresentano il dono della Divina Volontà, il dono della vita che le anime fanno in cielo e che dovremmo imparare anche noi a fare in terra. Non solo a fare in terra, ma anche a vivere in terra. Regina Immacolata Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tuo caro figlio nelle tue braccia e per chiederti con i sospiri più ardenti in questo mese a te consagrato la grazia più grande che mi ammette a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi come figlio tuo a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato da veri figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido a ciò che guidi i miei passi nel regno del voler divino e stretto l'ottomano eterno guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita per emmere la Divina Volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma ti consegno la mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere cosa vuol dire la volontà di Dio. Ave Maria Pierani, grazie al Signore con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo San Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fioretto del mese, mamma mia, ti amo e tu amami e dammi un sorso di volontà di Dio, mamma mia, dammi la tua benedizione affinché possa fare tutte le mie azioni sotto il tuo sguardo materno. Luisa, mamma dravitta, la tua piccola figlia, sapendoti sola senza dell'ammato bene Gesù, vuole tersi stretta a te per farti compagnia nella tua amarissima isolazione. Senza di Gesù tutte le cose si cambiano il dolore per te, il ricordo delle sue pene strazianti, il dolce suono della sua voce, che ancora ti risuona all'udito, affascinante sguardo del caro Gesù, ora dolce, ora mesto, ora gonfio di lacrime, ma che sempre ti rapivano il tuo cuore materno. Non avervi più con te sono spade taglienti che passano da una parte all'altra del tuo cuore profitto. Mamma desolata, la tua cara figlia vuole ad ogni pena darti un sollievo, un compatimento, anzi vorrei essere Gesù per poterti dare tutto l'amore, i comporti, i sollievi, i comportamenti che ti avrebbe dato lui stesso in questo tuo stato d'animo amaro, desolante. Il dolce Gesù mi ha dato a te come figlia, perciò mettimi al tuo posto, nel tuo materno cuore, io sarò tutta tua e io sarò tutta della mamma mia, ti riasciugherò le lacrime e ti farò sempre compagnia. Lezione della regina madre desolata, figlia carissima, grazie della tua compagnia, ma se vuoi che la tua compagnia mi sia dolce e cara, e portatrice di sollievo il mio trafitto cuore, voglio trovare in te la divina volontà operante, dominante e che non c'è nella tua volontà neppure un respiro di vita, allora sì scambierò col mio figlio Gesù perché stando la sua volontà in te, in essa sentirò Gesù nel tuo cuore e ho, come sarò felice di trovare, in te il primo frutto delle sue pene e della sua morte, trovare nella figlia mia, il mio amato Gesù, le mie pene si cambieranno in gioie e le mie dolori in conquiste. Ora ascolto a mia figlia mia dei miei dolori, non appena il mio caro figlio Spiro scese nel limbo come trionfatore e apportatore di gloria e felicità, in quel carcere dove si trovavano tutti i patriarchi e profeti, il primo padre Adramo, il caro San Giuseppe e i miei santi genitori e tutti quelli che in virtù dei miei meriti previsti del futuro Redentore si erano salvati. Io ero inseparabile dal figlio mio e neppure la morte me lo poteva togliere, quindi nella foga dei miei dolori lo segui nel limbo e fui spettatrice della festa, dei ringraziamenti che tutta quella grande turba di gente diede al figlio mio che aveva tanto sofferto e il cui primo passo era stato verso di loro per beatificarli e portarli con sé nella celeste gloria. Sicché come morì così incominciarono le conquiste, la gloria per Gesù e per tutti quelli che lo amavano. Questo figlia cara e singolo di come quando la creatura fa morire della sua volontà con l'unione della volontà divina incominciano le conquiste nell'ordine divino. La gloria, la gioia anche in mezzo ai più grandi dolori. Quindi adonta che gli occhi dell'anima mia sanguinarono il mio figlio e mai lo perdete di vista. Pure in quei tre giorni che stette sepolto io sentivo tale ansia di vederlo risorto che andavo ripetendo nella mia foga d'amore, sorgi gloria mia, sorgi vita mia. I miei desideri erano ardenti, i miei sospiri di fuoco fino a sentirmi consumare. Ora in queste ansie vidi che mio caro figlio accompagnato da quella gran turba di gente uscì dal limbo in atto di trionfo e si portò al sepolcro. Era l'alba del terzo giorno e come tutta la natura lo pianse, così ora gioiva tanto che il sole anticipò il suo corso per essere presente nell'atto in cui il mio figlio risuscitava. Ma oh che meraviglia! Prima che risorgesse, fece vedere a quella turba di gente la sua santissima umanità sanguinante piagata, sfigurata, come era stata ridotta per amore loro e tutti. Tutti furono commossi e ammiravano gli eccessi d'amore e il grande portento della redenzione. Ora figlia mia, oh come ti vorrei presente nell'atto in cui risuscitò mio figlio, egli era tutta maestà, la sua divinità unita la sua anima, fece scaturire mari di luce e di bellezze incantevoli da riempire cielo e terra e come triunfatore facendo uso del suo potere comandò la sua morta umanità che ricevesse di nuovo la sua anima e che risorgesse triunfante e gloriosa vita immortale. Che atto solenne, il mio caro Gesù triunfava sulla morte dicendo morte, tu non sarai più morte ma vita. Con questo atto di trionfo metteva il suggello che era un uomo e Dio e con la sua risurrezione confermava la sua dottrina e i miracoli, la vita dei sacramenti e tutta la vita della chiesa. Non solo ma dava il trionfo sulle volontà umane affievolite e quasi spente nel vero bene per far triunfare sopra di essa la vita di quel voler rivino che doveva portare le creature la pienezza della santità e di tutti i beni. Nel medesimo tempo gettava nei corpi in virtù della sua risurrezione il germe di risorgere la gloria. in perdura. Figlia mia la risurrezione del mio figlio racchiude tutto, dice tutto, conferma tutto ed è l'atto più solene che gli fece per amore delle creature. Ora ascoltami figlia mia ti voglio parlare da mamma chi ama a sé lo figlio suo. Voglio dirti che significa fare la volontà divina e vivere in essa. L'esempio te lo diamo mio figlio Dio. La nostra vita fu cosparsa di pene, di povertà, di umidiazioni, fino a vedere morire di pene il mio amato figlio. Ma in tutto ciò faremo la divina volontà essere la vita delle nostre pene e noi ci sentivamo trionfanti e conquistatori da cambiare la stessa morte in vita. Tanto che nel vedere il gran bene volontariamente ci esibivamo a patire perché stando in noi la divina volontà nessuno si poteva imporre su di essa nessuno di noi. Il patire stava in nostro potere e lo chiamavamo come alimento e trionfo della redenzione da poter portare tutto il bene al mondo intero. Ora figlia cara se la tua vita e le tue pene avranno per centro di vita la divina volontà si incerta che il dolce Gesù se ne servirà di te e delle tue pene per dare aiuto, luci e grazie a tutto l'universo. Perciò fatti coraggio, la divina volontà sa fare cose grandi dove essa regna e in tutte le circostanze specchianti in me e nel tuo dolce Gesù e cammina avanti. Luisa, mamma santa, se tu mi aiuti mi terrai sotto il tuo manto di pesa facendomi la celeste sentinella io sono certo che tutte le mie pene le convertirò in volontà di Dio e ti seguirò passo dopo passo nelle viemi interminabili del fiat supremo. Perché so che il tuo amore è affascinante di madre e la tua potenza vinceranno la mia volontà e la darai in tuo potere e me la ricambierai con lo scambio della divina volontà. Perciò mamma mia a te è il mio figlio e nelle tue braccia mi abbandono. Fioretto, oggi per onorarmi dirai sette volte non la mia volontà ma sia fatta la tua volontà offrendomi i miei dolori per chiedermi la grazia che tu faccia sempre la divina volontà. Mamma mia per la risurrezione del tuo figlio fammi risorgere nella volontà di Dio. Finalmente è uscito il mio libro La mia esperienza di conversione a Meggiugori nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione. Ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere. Grazie. 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 Grazie.